Epson Italia ha scelto di rivestire la propria auto elettrica aziendale, ricorrendo alla professionalità di Design Solution, un'azienda che nasce nel 2010 e si occupa di stampa digitale, affidandosi alla tecnologia Epson. Gli nostri clienti vanno dal privato alle aziende e si vogliono per personalizzare i loro supporti che possono essere insegne, macchine, pareti e quant'altro. Il nostro obiettivo è quello di confezionare per loro progetti di altissima qualità. Il wrapping è tra le applicazioni possibili con le stampanti serie SureColor SCS. Consiste nel realizzare rivestimenti speciali e personalizzati da applicare ad ogni tipo di superficie, inclusi i veicoli. Una volta progettato il design, si procede con la stampa della grafica. L'utilizzo del modello SureColor S8600 con inchiostri eco-solventi garantisce durata nel tempo, rossi e arancioni brillanti ed elevata flessibilità a livello di personalizzazione. Inoltre, l'utilizzo del colore bianco o metallico permette di ampliare la gamma cromatica e ottenere effetti particolari. La stampa viene quindi plastificata e applicata al veicolo, prestando attenzione ai dettagli, per seguire perfettamente la sagoma dell'automobile. Design Solutions ha scelto Epson per la stampa digitale Roll2Roll. Utilizza una stampante per la stampa su carta che va dalla carta da fissione ai poster e un'altra stampante eco-solventi per quanto riguarda QDC, carte apparati e supporti speciali. È in grado di garantire dei rossi fenomenali che non hanno concorrenza. Il design scelto per l'auto elettrica aziendale rappresenta tematiche green, permettere ulteriormente in evidenza l'intento di Epson di ridurre il proprio impatto ambientale nel quotidiano.